Nuovo capitolo nella complessa vicenda della Teate Servizi e, per estensione, del futuro amministrativo del Comune di Chieti. Questa mattina, dopo la riunione di giunta, si è deciso di ritirare la delibera di presa d'atto delle linee guida del piano di risanamento della società in-house Teate Servizi, questo per adeguare il testo al pronunciamento recente della Corte dei Conti. Di conseguenza, la delibera viene ritirata anche dall'esame del Consiglio Comunale. Uno snodo serio e delicatissimo per la città e per le scelte legate al piano di riequilibrio economico-finanziario formulato per risanare i conti dell'ente. Di fatto, noi, quando ci siamo insediati, abbiamo trovato una società che non aveva predisposto i bilanci da sottoporre l'attenzione del socio, quindi non eravamo a conoscenza né dell'eventuale situazione di crisi né della, diciamo, gravità della situazione. Dopo, diciamo, molti solleciti, causa anche la pandemia con la legislazione nazionale che ha sospeso le attività di riscossione, il Sindaco ha ritenuto, proprio a fronte dell'inerzia dell'organo amministrativo della società, di revocare l'incarico all'amministratore. A distanza di soltanto due mesi viene presentata un'istanza di fallimento da parte della Procura della Repubblica che ci ha indotto, a fronte dell'apertura dello Stato di liquidazione, a nominare il dottor Diorio come liquidatore per evitare il fallimento della società adottando quelle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare. Noi non siamo parte di questo procedimento penale, quindi non ne conosciamo né gli esiti né gli atti di indagine, ma da quello che si legge dall'istanza di fallimento l'iniziativa della Procura è stata assunta a seguito della segnalazione di colui che avrebbe dovuto decidere qualcosa e anziché decidere ha ritenuto opportuno fare un esposto alla Procura, e cioè l'ex Sindaco di Chieti. La delibera della Corte dei Conti ci sta imponendo un reset, chiamiamolo così, un reset conseguibile, quindi niente di straordinario. Entro la fine del mese di marzo il dottor Diorio deve presentare ai giudici del Tribunale il suo piano concordatario, quindi piano concordatario di teatro e servizi per riportare la società in bonus, e ci sono tutte le possibilità perché questo avvenga, piano di riequilibrio del Comune che ovviamente tiene conto dei vantaggi che da teatro e servizi arrivano all'ente. Quindi questi due piani vanno avanti concordemente e se i giudici del Tribunale per teatro e servizi, i giudici della Corte dei Conti per il Comune approvano questo nostro programma, chiaramente la città tutta se ne avvantaggerà. Se al contrario dovessero decretare che tutto questo, tutti questi sforzi che stiamo facendo non sono valsi e si va purtroppo al dissesto, c'è più che un obiettivo una situazione a cui non voglio neanche pensare perché chiaramente non è soltanto il Comune ma è tutta la città e tutti i teatini che perderanno. C'è qualcuno che in qualche modo, secondo lei, lavora affinché invece la città arrivi al dissesto? Non ci voglio neanche pensare, dottoressa, non ci voglio neanche pensare perché sarebbe veramente cinico e atroce.